crutch mindset rimettiamo il cappellino dell'italia porta fortuna nella live con il galles per fare il video di oggi allora il video di oggi nasce da qualcosa che si è detto ieri nella live con ottavio nella live con ottavio mi è venuta un'idea a me ogni tanto vengono delle idee così estemporane e allora diamogli vita ieri ho detto nel post che ho fatto su tiktok ho provato a indovinare la formazione che scenderà in campo contro il portogallo non è un compito facile perché è un po un rebus no che rancroli ha detto che vuole provare tutti i giocatori che sono stati convocati e allora gli esperimenti è molto probabile che verranno fatti nelle prime due partite e quindi diventa un compito abbastanza interessante proprio così da studiare provare a indovinare chi saranno i 15 titolari ci fermiamo ai titolari che andranno in campo contro il galles e poi cosa c'è più di divertente che fare finta di essere il commissario tecnico della nazionale italiana nel calcio nel rugby in tutti gli sport e allora ho detto va bene chi indovina il 15 o chi si avvicina di più nel caso in cui ci siano dei pareggi contano i nomi non le specifiche posizioni i nomi e nel caso in cui ci sia un pareggio ci sono due che ne hanno indovinati metti 13 allora il allora lì sì che vado a vedere magari eventualmente le singole posizioni insomma chi indovina avrà una piccola sorpresa ci sto lavorando ci sto lavorando sotto diversi fronti l'annuncio l'annuncio magari domani domani magari l'annuncio comunque contateci sarà una piccola sorpresa facciamo questo piccolo gioco questo piccolo concorso dove potete mettere i 15 i vostri 15 sotto questo video sotto il video della live andrò a controllarli tutti sotto il post che ho fatto su twitter sotto un post che farò a breve su instagram e volendo anche sotto il video di ieri che ho fatto su tiktok dove annunciavo la formazione quindi insomma veramente dove volete vediamo se mi sono dimenticato qualcosa youtube a facebook anche su facebook metterò un metterò un piccolo post dove lo annuncerò anche lì e allora questo video non è solo per annunciare questo piccolo gioco questo piccolo concorso ma è anche soprattutto per dare la mia il mio 15 e motivarlo un po di più rispetto a quello che è stato fatto ieri nel video allora io ho messo al numero uno ivan nemer perché nemer perché credo che la prima partita sarà la partita degli esperimenti e soprattutto soprattutto per quello che riguarda le prime linee c'è c'è un fatto che se gli vuole provare tutti e se vuole dare una reale possibilità a tutti non per forza del titolare ma quantomeno di minutaggio beh bisognerà quasi alternare alternarli uno uno e uno no io credo che partiamo dal dalla fine credo che la prima linea titolare partente contro la giorgia dovrebbe essere fischetti lucchesi e ceccarelli ceccarelli probabilmente ad andare a scontrarsi con i bestioni georgiani e allora bisogna gli altri due bisogna metterli nelle partite precedenti io dico nemer perché nemer è quello che è anche più interessante da scoprire no un giocatore molto mobile vedere magari come entra nel nel piano di gioco che sta andando in divenire di kieran crawley quindi io dico nemer al numero due invece qua metto lucchesi metto direttamente lucchesi è probabile magari che venga alternato però se io fossi crawley con faiva però se io ho con nicotera se io fossi crawley con quale idea partirei beh io partirei con l'idea lucchesi titolare con la giorgia e poi a vedere uno tra faiva e nicotera al numero 16 però perché allora lucchesi direttamente contro il portogallo beh innanzitutto perché contro il portogallo o che il portogallo ha pareggiato con la giorgia ha perso di pochissimo con la spagna l'abbiamo detto ieri nella live e quindi non è che possiamo andare con una formazione totalmente sperimentale e lucchesi in più ha bisogno di di un test perché lucchesi è stato fuori per un lunghissimo lunghissimo no cioè non era il crociato eccetera però per un lungo periodo da dopo in sei nazioni e ha giocato un paio di partite col benetton però probabilmente andrà testato e allora crawley potrebbe volerlo testare già nella prima partita contro il portogallo questo darebbe anche la funzionalità di avere un giocatore comunque potente va detto che a tallonatori andiamo comunque bene secondo me perché dove caschiamo caschiamo abbastanza bene faiva lucchesi e nicotera sono tre ottime scelte al pilone destro al pilone destro io ieri ho sparato che si potrebbe andare per neculai qui sono un po meno convinto ci ci sono potrebbe essere anche l'opzione ferrari potrebbe essere anche l'opzione ceccarelli eventualmente alla sudafricana no magari facendo i primi 30 minuti e poi venendo cambiato ci sono varie soluzioni è un po' un terno all'otto però io ho detto test per test la sparo subito neculai cioè se io fossi crawley i giocatori che mi incuriosiscono di più li vorrei vedere subito per avere poi la possibilità di dare o non dare la seconda possibilità e allora che un nemer un neculai adesso poi ci andiamo ma un fusere un albanese tutti per ragioni differenti un marin a primo centro io li sperimenterei nella prima partita nella prima partita con il portogallo seconde linee seconde linee fusere un po per la stessa ragione di lucchesi fusere non è stato infortunato però viene da un periodo dove è stato impiegato molto poco nel suo club fondamentalmente da quando è tornato dal sei nazioni non so se proprio non ha giocato ma comunque non è stato tra i più impiegati sicuramente e quindi potrebbe essere una ragione per volerlo vedere e allora fianco suo io ci metterei un giocatore anche fisicamente potente e un po vero un'osservazione che mi è stata fatta nel gruppo patron che avere due giocatori così pesanti potrebbe non essere l'ideale però le opzioni di salto le potremmo eventualmente avere anche in terza linea e io ieri ho sparato adesso ormai non cambio ho sparato lorenzo cannone giocatore che ce lo ricordiamo ad esempio negli ultimi trenta minuti eh con il Galles partire veramente da una prestazione straordinaria se guardiamo la maglia azzurra le prestazioni in maglia azzurra ma poi anche in Benetton si è fatto rispettare terze linee sempre per il discorso degli esperimenti io metterei Zuliani vista l'assenza di Negri credo che la maglia numero sei eh contro la Giorgia è abbastanza prenotata eh da Pettinelli ehm e allora si potrebbe volere sperimentare Zuliani in una formazione così eh appunto sperimentale scusate se ho abusato un po' troppo di questo termine credo che ci sta il capitano per dare un po' di sicurezza un po' un po' di concretezza un po' a a tutto a tutto l'ensemble e quindi metterei metterei Miche Lamaro e poi al numero otto metterei Gian Marioli un un giocatore anche lì al numero otto abbiamo tante buone 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 opzioni però sperimentare per sperimentare se si dice vogliamo dare una reale possibilità Gian Marioli anche lui viene da un infortunio quindi stesso ragionamento fatto per Lucchesi e fatto per Fusel al numero nove al numero nove allora al numero nove secondo me ci sono tre giocatori che partono che partono a pari a pari opportunità quindi bisogna un po' vedere magari come si stanno allenando questo ovviamente non lo possiamo sapere però se mi chiedete chi è il gioco se mi chiedete come li distribueresti tu cioè diciamo che uno parte albanese anche perché un numero nove se li si vuole veramente sperimentare non li puoi dare solo gli ultimi venti minuti li devi dare un 60 minuti ciascuno e allora se l'idea è quella di dare veramente un'opportunità a tutti quanti come è stato ripetuto in conferenza no in conferenza stampa nell'intervista pretour beh allora bisogna dare una partita ad albanese una partita a Garbisi e una partita a Fusco io vi dico la verità io muoio dalla voglia di vedere Garbisi Garbisi e quindi se io fossi Crowley non metterei Garbisi in questa partita perché bisogna aspettare che torna il fratello se voglio vedere Garbisi Garbisi quindi nel mi scuso un po' di tosse in stigioni quindi nel mi ha dato come una polverina in gola che mamma mia quindi nel gioco delle tre carte io metterei qui Manfredi Albanese giocatore interessantissimo da scoprire l'abbiamo detto molto completo nelle sue armi però assolutamente da scoprire in un livello internazionale e allora forse la partita col portogallo potrebbe essere la più indicata per scoprirlo ovviamente a fianco di Manfredi Albanese se vado per questo non posso mettere da re perché mettere praticamente due esordienti anche se da re ha già giocato ma mettere due esordienti totali in una partita internazionale così no da re credo che non abbia esordito con la nazionale maggiore correggetemi se sbaglio però ha già giocato d'apertura nel Benetton non è un'opzione secondo me e allora soprattutto perché manca Garbisi soprattutto perché serve comunque mettere un'apertura di esperienza a fianco al al mediano di mischia lì io credo che sia abbastanza scontato che vedremo Tommy Allen anche perché se poi vogliamo far giocare da re e vogliamo fare il Garbisi Garbisi allora magari a fianco a da re lì si può mettere Fusco che un po' di esperienza in più ce l'ha ha comunque già calcato il i palcoscenici del sei nazioni questo magari nella partita con la Romania poi eh centri bisogna comunque andare con dei centri solidi eh per me si partirà subito con Marin anche perché Marin da quando è tornato in sei da sei nazioni in Benetton ha giocato pochissimo eh si è discusso molto sulla possibilità di avere Marina primo centro oggi come oggi forse l'opzione Giorgia e più Menoncello Brex coppia consolidata e allora Marin va fatto partire subito gli va data la dodici gli va detto giocati le tue carte anche sapendo che è poi eventualmente un'opzione anche per andare all'apertura o all'estremo quindi io direi Marin a fianco a Marin altro giocatore curioso da da vedere come è tornato dalla Francia da Po appena rinnovato con il Benetton ottima notizia io credo che potrebbe andare Zanon alle ali Bruno da una parte eh non c'è Montiglione la posizione numero undici è tutta da scoprire e dall'altra parte io metterei Padovani anche lì per dare un po' di testa al gioco per dare un po' di leadership un po' di esperienza tra l'altro l'ha nominato tra i leader ehm Crowley a marzo nel dopo sei nazioni e secondo me Padovani questa partita la gioca e a estremo metterei Capuozzo occhio perché Capuozzo uno dice ma se è sperimentale magari allora mettiamoci un trulla però occhio che Capuozzo anche ancora un esperimento perché sì ci ha regalato la gioia del Galles ci ha regalato ehm la meta eh del anzi le mete con la Scozia da subentrante però fondamentalmente Capuozzo con la nazionale maggiore cosa ha giocato eh trenta minuti con la Scozia e una partita con il Galles insomma è un quasi debuttante era ad esempio in campo con la nazionale A nella partita contro la Spagna eh che quasi che quasi perdevamo quindi anche Capuozzo è un giocatore ancora da scoprire per quanto abbia stimolato assolutamente eh la nostra fantasia di appassionati e allora vi ripeto il mio quindici. Nemer, Lucchesi, Neculai, Fuser, Cannone, Zuliani, Lamaro, Gianmarioli, Albanese, Allan, Marin, Zanon, Bruno, Padovani, Capuozzo. Se andate a ascoltarvi la live di ieri sentite anche il quindici di Ottavio e e poi scrivete qui sotto nei commenti allora il vostro quindici. Ripeto lo potete fare qui o lo potete fare anche sulle altre piattaforme. Io ehm prima nel momento in cui verranno fuori le convocazioni di Kieran Crawley farò non fate non fate i furbi non fate i trucchetti nel momento in cui verranno fuori le convocazioni di Kieran Crawley che ovviamente non so quando sono però andrò a rivedermi subito immediatamente tutti i messaggi e ovviamente guarderò quelli che sono usciti prima ci sono gli orari del del comunicato del della FIRA non varranno non fate i furbi che tanto vi becco non è che non si vince non si vince milioni si vince eh una piccola sorpresina che però spero che sarà che sarà gradita eh per fare community per giocare tra di noi quindi mettete il vostro quindici qui sotto nei commenti e per il resto eh fischio finale un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video ciao